Ebbene a tutti ragazzi, io sono Slime, oggi ragazzi siamo con Agbar Ciao ragazzuoli! Siamo in un parkour mio, ovviamente E' un parkour divertentissimo Uh, prendilo, prendilo, prendilo Ok, già si trolla qui ragazzi No, l'ho preso il fisso, c'è E prendiamo anche questo Si va giù qua Piano piano senza correre, tanto questa gara vincerà Il signor Alevar Perché è una gara No, prendi il cieco da qua sotto E' una gara mia e quindi non posso vincere ragazzi Prendiamo che lo prendiamo da sotto il cieco Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale mio Soprattutto è quello di Alevar Alevar 93 Che c'è? Ti aspetto qua dai Ragazzi non c'è una rivalità tra me e Alevar Le gare ce le giochiamo così Senza Sì, sulla strada Ragazzi se volete giocare con noi Le nostre gare Perché anche Alevar il creatore Iscrivetevi ai nostri canali Anzi, iscrivetevi anche sotto i commenti Più che altro Eh sì, anche Eccolo qui signor Alevar Andiamo Possiamo andare Calma Adesso è un cavallo in zerdio sta macchina Lasciamo la musica così Più divertente Sì Ci sei? Sì, sì, ci sono Ok, andiamo E davola la spinta che non la dai mai Eh, così diceva Così diceva Così diceva Oh! Prendi il pen di cieco? Sì, lo prendi No, ho preso Ah, ho preso Sì Ho preso, ho preso Oh, mi sono incastrato Oh, mi sono incastrato Oh, ma che hai detto? Stato in sé qua No Ragazzi, facciamo gare per parecchi youtuber E' fermato il giro qua che l'ho premato Yes Ti faccio fare i giro Eh, mi dico Che la scrunchet non è la mia preferita Eh, invece è la mia Infatti ne hai far più la odio Ah, ah Neatamo, mi ha cambiato il nome Non sono più Slimer Ma sono Slime Clown Jet Ah, ah, ah No, no No, no Non ti girare, non ti girare, non ti girare, no No, che fai? No No Dove vai? Ho lasciato la musica perché la musica sottofondo è bella Invece io la odio Eh, lo so, perché gliela odio però In certi casi è bene averla Per questo l'odio alla scrunchet Perché si gira sempre Poi dite nei commenti se vi piace la gara Senza offiz ragazzi, non mi offendo Dai, scrunchet, dai Mi fa pedre tempo Oh Pla Nooo, non ci posso credere Che c'è? No, 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 no Dove sta sto cocchita? Ah, sopra Ma perché sono Ed è la mia la gara ragazzi È la mia la gara eh E mi sto trovando Beh, te ando Dai, scrunchet, dai Non posso vincere ragazzi Aspettiamo alle bar qui Eh, eh, aspetta bene No Dove? No, vabbè Ha preso il check, incredibile E se ti può provare così No Ah Forse ci siamo Si Allora Ragazzi, sotto dei commenti, scrivete anche se vi piace la scrunchet Se è un tuo problema A me piace tanto, è divertente Allora 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 Signor al bar, lo aspettiamo qua, dai Ci sono quasi, ci sono Ok Se volete giocare con noi ragazzi, iscrivetevi anche al mio canale, al nostro canale E se siete amanti di TikTok, iscrivetevi anche su TikTok, stesso nome, non cambia niente No No Oh Lo sapevo io Anzi, però vabbè che mai fatti da... Da prina, la te grazie preso il jack vai via quasi salta anche così eh no assalvatanaio mi sono buttato assalvatanaio invece a pesciolimo sto tubo trolle sto tubo trolle tanto prendilo ecco le cacchie non ha preso il check dai che l'ha fatto non prendere il check manco io ho preso prena di prego non cadere e dai preso no 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 non ti girare no 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 si andiamo ragazzi e andiamo Andiamo ragazzi, via! Sì? Noo, perché è saltato? Noo, perché ha fatto così sui baldi? Noo, mi è uscito proprio fuori traiettore. Noo, perché è rimbalza così? Così male! Giro, giro a chi... Ma non mi ricordo se devo buttare il freno... No. L'abbiamo ripresa la comanda. No, no, non mi uscire fuori strada, eh. Ok. Basta, basta, basta! Sono usciti ragazzi, sicuro? Invece no! Non esplodere! No, 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 la prima persona! Chi ha messo la prima persona? Di certo non la posso mettere io. Oh! Cosa è successo? Questo face è diventato un sacco. Raga, un'altra cosa voglio dire, sotto nei commenti scrivete anche se volete che porto qualche mia casa sulla... Certo, 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 salto ti ho fregato, però. No! Cittone che non sono un altro. Eh, ci te lo non citti mai. E ci diamo, ci ti amo! No! Dai, uh. Andiamo bene. Giochiamo bene. Giochiamo bene, favore. Eh, giochiamo bene, dai. Eh, lo so che stai arrivando. Sì! No! Oh, grazie! E' tanto la spinta, niente male? Niente male. E' tanto la grande. Poi dico che... Poi dico che sono brutto nelle carri. Mi sono portato verso lui. No, no, no. Mi può andare strancito in merda. Scusate, ragazzi, ma... Quando si parla di sgrancito... E' tanto la grande. E' tanto la grande. Eh, perché la scrancito è bellissima. Eh, io però, infatti, parlo bene della scrancito. Eh, eh, ti vede proprio. Senza leggere scrivere, ci vai. Senza leggere scrivere, ti prego, ti prego. No! Do! Do! Se arrivo dritto, dritto... No, vabbè, siamo stolti, ragazzi. Siamo stolti, stiamo. Dove stai? Dai, sono dietro di te. Sto cadendo dietro di te. Pietro di me? Ah, ah! Sì, sto cadendo dietro di te. Dobbiamo vedere bene dove... Dove... Non ci buttiamo a cacchia. Ok. Via. Perfetto. Vediamo lo stesso qua. Oh, e no! Non esplore che ti facessi vedere io sti fatti. Sì! Aspetta, guardiamo bene. Non facciamole così. Ok. Vediamo un po' la distanza qua qua. Ah, c'è un altro. Sembra che è la tua cara. È fatta un po' il tempo fa questo. Allora, attenzione, il signor criminale è in guida. Perfetto. Il signor criminale sarà risolto su Butter. E gioca a Butter perché non giochi male, diceva. Ah, ah! Su Rena. Ok. che è normale non apriamo più davanti alla macchina era esistente stava anche io ce l'avevo la stranaget l'ho venduta come uno sceno facciamo sì facciamo no questo lo c'è qua c'è il servizio senza turbo criminale ha invitato criminale ci abbiamo da fare adesso preso sì io vado avanti perché sai che a me sai cosa cosa sto dicendo le vedate a me mi fanno cagare quindi si si lo vediamo qui sto quasi vicino a te ok oh no 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 mi voglio che ne vedassi sono anche io che ne vedassi la snonna 1 eh beh, almeno li sai fare io con queste cose sono negato ragazzi con queste cose sono negato datemi il percorso ma queste cose proprio niente qua mi blocco io ragazzi e che non ci siamo non sa proprio che io non ci avrò mai a passare questo tu dici perché l'hai messo non lo so questo per i bambini per far uscire pazze le persone non riusciamo a città ragazzi non si può città se si mettono anche le macchine davanti ma è questa macchina si gira proprio si gira è una cosa impressionante sta macchina mi sa che dovesse togliere il traffico eh sì sì perché se no qua non si fici più la gara vogliamo fare tutti i vorraghi ma non ci riescono citiamo che non citiamo mai ragazzi citiamo che non citiamo mai ok dai che se non si mettono in avanti ok ecco però se si prende anche la scrunche si rimane sopra si no la scrunche non è fatta proprio per il vol ride ragà 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 no come città le sue cari no non sto citando stavo facendo la il vol ride l'avevo preso il vol ride bene l'avevo preso bene sto tentando a citare in stavolta e infatti adesso si ok adesso chiuso se mi cadi no ti compri e ti versi sprovati perfetto ce l'ho fatta vai 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 ehm qui qua oh si chiudo eh si si chiudi chiudi cosa c'è eh non l'hai preso no il traguardo dove sta aprite vuoi entrare cosa si sono aperte le porte del aspetta ah ok aspetto aspetta aspetta no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè ah queste non si aprono sono entrato dentro eh no vabbè no vabbè ah la cara si può fare che entriamo dentro eh no si 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 può fare com'è ma il traguardo non so redda ah 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 raga ovviamente stiamo giocando eh tra me adesso non c'era di palità non c'era niente eh se la vince lui la vabbè mica io la stessa anche perchè c'è la regola che la creature non può vincere eh ma con sto accusa non vincere lo stesso ahah vorrei andare sopra la sopra la sopra la sopra il diamante qua ma il traguardo sarebbe più per caso perchè? non lo trovi non lo sto prendendo loro ahahah ahahah come vai a non vedere il traguardo no da qua sopra non si vede ah esce dentro tutto no mi dovete vedere dove sta dai eh ecco lasciando i chiudi eh 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 chi eh se non mi esplode si eh eh uh sta passando a riuscire il check incredibile cos ah ah eccolo sopra la casinosta aspetta aspetta che sono arrivato aspetta che sono arrivato eh ok ok infatti mi provo a fare quel visito eh quello era sull'occasione si ok apri eh so che dovrei fare un piccolo saltellino sennò non riesco a passare adesso ok ci sei? si vai ci sono io ok chiuso eh ok ragazzi ci avevo questo video di Spockitra qui è stato un video particolare ragazzi ci siamo divertiti un po' spero che vi siete divertiti anche voi e ci piacchiate alla prossima ciao belli ciao